ed ascoltando il corno personalizza emblemi e poi lo devi mettere sulla schiena del coso del guardiano se no se vuoi proprio la croce c'è però di buono devi inerrare troppo perché penso una cosa più di troppo difficile no no ma che deve fare partite e partite sull'online è l'equivalente di essere fa molto platino no come si platino 1 sul rainbow e ma che cazzo se vabbè ciao vediamo ma poi no e siamo a due e siamo a due pietro vuoi fare qualcosa non so uccideli mk2 ma non mi piace di niente c'è tanto nel campo di lago e che mi fa effetti l'aspettiamo aaaah madonna mio ampio cazzo psicologo dai appena finì si fa musica io ti sono lunedì lunedì ah sì lunedì allora vi è cianfame comunque shinobi è un bastardo per dio vabbè mike ti invito e si va a fare in una partita online va qua infatti perché questi due prima è finita la notte esatto ma te quale vuoi fare cioè quale fatto perché io ho fatto tutto in prato ragazzi ragazzi questa qui questa qui è la c è la quinta oddio no che è andato via mi sa eh sì andato via vabbè fammelo uccidere più velocemente ma è a santa croce perché è a santa croce qui mike impegnati dove quale ah mischia 2v2 ok ah pietra deve essere ancora più bravo di come fai contro di me eh beh allora c'ha cioè oddio a volte si capita cioè capitano anche quelli scarsi eh però insomma sì quello è vero infatti l'ho visto però che cazzo sono raro ma rialza via perché la valkyria usa le cose ci rovi ma mi porta a terra ma mi porta a terra oh cazzo eh vabbè feroci la pacificatrice assassin creed e io sono con la pacificatrice che sento uro assassin creed la pacificatrice se non stai attento ti mette veleno ok devo ammetterlo pietro è meglio di me devo ammetterlo e la valkyria fa cosa? fa sanguinare fa emorragia ok visto che devo andare a mangiare questa qui la dovrò fare veloce scusa pietro nooo ah è giù è giù potermi sotto eh sì che fa? oh viene da te oh eh sono stronzi fammi fare il coso ci stiamo cambiando